Il Museo Archeologico Regionale Eoliano è ubicato nel complesso del castello che domina l'isola di Lipari ed è intitolato a Luigi Bernabobrea, grande archeologo e soprintendente della Sicilia orientale, vissuto tra il 1939 e il 1973. Il museo è stato realizzato nel secondo dopoguerra, nel 1954, e contiene, per la maggior parte, reperti archeologici provenienti da sistematiche campagne di scavo, condotte dagli archeologi Luigi Bernabobrea e Madren Cavalier, nel territorio delle Isole Olie. È costituito da oltre 40 sale, ubicate in diversi edifici del complesso del castello e suddiviso in diverse sezioni. Negli ambienti sono esposti strutture architettoniche, esempi di scultura in marmo e pietra, corredi funerari, vasi, cippi, steli tombali e sarcofagi in pietra, che testimoniano la vita della polis e l'evoluzione del culto dei defunti. Inoltre ci sono ceramiche di tipi e fogge varie, maschere teatrali e statue fittili. Esistono poi due sezioni staccate del museo, ubicate sulle isole di Panarea e Filicudi, e molti materiali sono esposti anche nell'antiquario civico di Salina. I materiali datati dalla preistoria ai nostri giorni in lingua italiana e inglese, che rende quindi fruibile la conoscenza dello stesso contestualizzata al luogo del ritrovamento.